Finalmente ragazzi ci siamo la pinna tanto attesa Mantra durezza Ardo La Mantra H si colloca come una pinna esclusivamente per pescatori ma soprattutto per chi ha un peso superiore agli 85 kg fino al massimo di 100-105 kg ma c'è anche il ma per chi pesca in inverno con tanta zavorra ad esempio perché ho un peso su 70 kg e pesca in inverno come faccio io ecco sono passato appunto la Mantra H la durezza è di circa un 30% in più rispetto alla Mantra media chi ha questa inclinazione ok ci impiega la stessa forza e come potete vedere la durezza è di un 30% in più per dare più resistenza abbiamo rinforzato la parte finale della pinna e per dar modo appunto di aver una pala veramente molto resistente molto importante da non sottovalutare che voglio spiegarvi è la spinta dell'acqua sulla pala vediamo durante la pinneggiata in superficie possiamo notare come spostiamo su tutta la pala una gran quantità d'aria queste bolle d'aria iniziano proprio dalla pianta del piede per poi incanalarsi su tutta la pala i vortici creati durante l'affondamento della pinna vengono convogliati con facilità all'interno senza creare in realtà vortici esterni o peggio ancora attriti questo è possibile grazie alla continuità tra la scarpetta e la pala voglio farvi notare come la spinta della pala viene attivata non solo dalla caviglia ma anche dalle dita dando la direzione alla pala ma non solo infatti nell'ultima spinta coinvolgono energicamente la prima porzione di pala questo importante passaggio permette di avere una reazione immediata su tutta la pala ovviamente da non sottovalutare il piede ben disteso questo ci permette in primis di far lavorare la pinna correttamente di conseguenza non affeticheremo le nostre gambe infine le nostre pinne saranno allineate all'interno della sezione trasversale del corpo nulla è lasciato al caso le nostre pinne nascono da studi ingegneristici vengono esaminate attentamente da grandi atleti profondisti e pescatori questo per dare una maniacale perfezione e quindi il miglior rendimento nel momento in cui verranno appunto utilizzate vi ricordo di iscrivervi sempre al canale e di accendere la campanella perché tra un po ci sarà il gioco indovina le catture e cosa ci sarà in palio ciao